Torna a riunirsi nel nuovo anno il Consiglio Comunale di Como. La data è stata fissata il prossimo 30 gennaio. Il primo argomento, iscritto all'ordine del giorno, segna il ritorno a Palazzo Cernezzi di Elena Negretti, assessore nella giunta dell'ex sindaco Mario Landrescina e che ora torna in comune come esponente della Lega. Negretti subentra infatti ad Alessandra Locatelli, attuale ministro per le disabilità che ha annunciato la DIA e i banchi del Consiglio Comunale lo scorso 30 dicembre. Per via dei gravosi impegni governativi con l'inizio del nuovo anno, seppur con rammarico, mi dimetterò dal Consiglio Comunale di Como, aveva spiegato il ministro Locatelli, aggiungendo dal giorno della mia nomina a ministro ho provato a conciliare l'attività consigliare con l'incarico che mi è stato affidato. Le responsabilità di governo però sono sempre maggiori e l'attività di mandato sempre più intensa. L'avvicendamento avverrà dunque il prossimo 30 gennaio con la ripresa delle attività del Consiglio Comunale. Sono particolarmente soddisfatta che il testimone passi ad Elena Negretti, aveva inoltre aggiunto Locatelli, con la quale collaboro da tempo in sintonia e verso cui nutro molta stima. Negretti, tesserata con la Lega una volta concluse le ultime elezioni amministrative, potrà sempre contare sul mio personale sostegno e su quello della segreteria cittadina. continueremo a dare risposte concrete ai cittadini a lavorare come abbiamo sempre fatto per il bene della nostra città.